Non avrò questo lavoro, vero? No, sei assunto. L'ho deciso appena ti ho visto. Il colloquio era solo una formalità. Aus, cosa fai qui? Lisa Caddy, Patrick Lineham. Patrick farà i turni a rotazione nel mio reparto. Io non sapevo che cercassi un nuovo interno. Piacere. Scusi, rido per il nervoso. E lo hai fatto per tutta la vita. Qual è il campo della medicina che ti interessa, Patrick? Oncologia e malattie infettive. I grandi spauracchi. E penso che la medicina sia diventata troppo fredda e impersonale. Dobbiamo far capire ai nostri pazienti che siamo esattamente come loro. Insomma, siamo tutti umani. Siamo tutti umani. Questa me la scrivo. Per lei contano solo la scienza e i fatti. Invece è molto bello avere sogni e speranze. Che genere di musica ti piace? Non mi interessa. Adoro un Mozart. Dice quello che provo ma che non so esprimere. Scusate, devo andare. Vedi, per questi colloqui faccia a faccia sono così importanti. Aiutano a conoscere le persone con cui fai figli. Spattilo fuori. 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 Grazie a tutti